Siamo in compagnia di Arif che è presidente dell'organizzazione internazionale umanitaria Life and Life. Allora è la prima volta che lo intervistiamo, gli chiediamo come mai si trova qui. Di che cosa si tratta questa organizzazione? Life and Life è un'organizzazione umanitaria internazionale che realizza i progetti per i bisognosi in paesi in via di sviluppo, compreso il mio paese di origine in Bangladesh, anche altri paesi poveri in Africa. Anche abbiamo attività umanitaria a livello territoriale in Italia. È ovvio che non deve essere un'area geografica per l'intervento umanitario, quindi per noi aiutare un bisognoso italiano o aiutare un bisognoso africano è la stessa cosa. Oltre questo intervento umanitario noi promuoviamo interculturalità. Da questo punto, per questa occasione, per questo interesse comune, ho conosciuto questa organizzazione, il cantiere Associazione di Cultura Politica. Soprattutto il giornalista Camilla Nata, che fa parte di questa organizzazione, che ha sostenuto il nostro festival internazionale del festival dell'intercultura solidale, Tu Mi Ami, che ha fatto un servizio. Grazie a questo festival abbiamo anche successivamente organizzato un evento con cantiere presso Casa Unar. Allora abbiamo realizzato un evento, un dialogo interculturale attraverso musica, arte e degustazione e di altri eventi culturali. Ora prevede di organizzare quinta edizione del festival internazionale dell'intercultura solidale Tu Mi Ami a Roma. Allora, quello che vorrei precisare è che questa associazione, associazione di cultura politica, va oltre, nel senso non fa solo cultura politica a livello territoriale, fa la cultura politica anche a livello internazionale. Io sono molto contento, grazie all'associazione il cantiere, grazie a voi tutti, grazie. Bene, bene Arif, io ti auguro ovviamente in bocca al lupo per la tua organizzazione. Grazie davvero.